ore 14 e 05 inizia il di piazza dei l'attaccante arrivabrini si è accompagnato dai suoi agenti giovanni tateo e valeriano narcisi che si sono spesi molto in questa trattativa appuntamento al ristorante il trullo in pieno centro con l'intero staff dirigenziale biancazzurro con in testa il presidente daniele arigliano poche parole ad alcuni tifosi che lo aspettavano all'esterno del ristorante poi il pranzo e la firma sul contratto tutto da vedere ancora una trattativa lampo che si è infiammata nelle ultime 48 ore il brindisi ha completato così un reparto offensivo di primissimo piano che poteva già contare tra gli altri sui vari santoro d'ammacco danna bitaie e palumbo si tratta dell'ennesimo colpo di mercato portato a termine dal sodalizio bianco azzurro l'attaccante è arrivato a brindisi dopo aver rescisso con la fidelissandria club al quale era legato da un altro anno di contratto una carriera di tutto rispetto quella di di piazza protagonista di tre annate tra i cadetti con le maglie di cosenza vicenza e provercelli e poi tanta tantissima esperienza in serie c sempre in piazze top come catania catanzaro foggia solo per citare le ultime avventure la serie d l'ha conosciuta solo agli esordi con il savoia e poi con il vittoria di piazza è un elemento esperto dunque che garantirà ulteriore qualità e tecnica all'allenatore ciro danucci